benvenuti a questa puntata di Mappamundi dedicata alle due Germanie e presento subito Giacomo Mariotto ciao Giacomo ciao a tutti allora Giacomo ha partecipato alla scuola di Limes il primo anno della scuola di Limes eh sta completando adesso anche lo stagio presso la redazione ma qui è in particolare perché ha scritto nell'ultimo volume di Limes che ricordo tra l'altro che trovate ancora in edicola e liberia ancora per poco perché stiamo già preparando il nuovo volume vi faccio vedere ecco la cortina d'acciaio che trovate in edicola liberia e anche online per gli abbonati e appunto Giacomo tu hai scritto questa scheda sulla Germania bicefala perché io ricordo nel millenovecentonovanta dopo la caduta del muro di Berlino no? Le due Germanie che erano adesso faccio vedere questa carta no? La spartizione della Germania dopo la seconda guerra mondiale e la nascita quindi di due Germania quella dell'Ovest e quella dell'Est la rinunificazione del millenovecentonovanta quindi più di trenta anni fa ma ciò nonostante rimangono molte differenze tra le due Germanie no? Questo è un po' l'oggetto della tua scheda quindi partirei proprio da questo. Assolutamente sì intanto grazie mille Alfonso per l'invito e buongiorno a tutti. Nell'ultimo numero di Limes abbiamo parlato di cortina di acciaio ossia di una cortina che segna il conflitto meglio la rivalità tra Russia e mondo atlantico a guida statunitense che si è rispetto al all'epoca della guerra fredda irrigidito eh una cortina che si è irrigidita e che si è anche spostata più a est ma questo spostamento non ha cancellato del tutto i segni della vecchia cortina che tagliava in due il cuore della Germania. Ancora oggi in Germania a trent'anni dall'unificazione del millenovecentonovanta persistono delle persistono uno sfasamento che ha carattere strutturale, un sfasamento profondo che quindi concerne demografia, economia, cultura, ehm temi sociali e per questo ehm appunto il punto è che ancora oggi eh è impossibile a trent'anni di stanza definire che cosa sia tedesco, semplicemente non c'è un modo e possono fare posso fare due esempi per questo appunto demografia per quanto riguarda la demografia nel periodo della riunificazione quindi diciamo gli undici mesi che passano dal millenovecentottantanove al millenovecentonovanta che portano dalla cuta del muro di Berlino alla effettiva riunificazione eh in quel periodo lì i l'ex DDR eh quindi i lender orientali erano i più giovani di tutta la Germania e oggi invece il quadro è completamente rovesciato in maniera quasi paradossale eh infatti complici anche le migrazioni interne soprattutto i giovani verso la Germania occidentali di giovani ossis quindi tedeschi orientali eh oggi la 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 Germania eh orientale appare come completamente completamente come decisamente spopolata il caso massimo straordinario è quello della Sassonia Analt che ha perso il ventiquattro per cento della popolazione in trent'anni quindi un cittadino su quattro non vive più su quel territorio e io rimetto rimetto la scheda qui il grafico dove vedete appunto i dati e come si può vedere eh in fondo la Sassonia Analt sfiora quasi cinquant'anni di età mediana da lender tra i più giovani e e quindi e quindi a questo si può unire anche il dato economico il dato economico ovvero ehm partirei dal dire che nella il governo federale a seguito della della riunificazione per trent'anni ha versato nella Germania orientale quasi due mila all'incirca duemila miliardi di euro per quella che è chiamata la convergenza economica eh ossia il tentativo di ridurre poi cancellare del tutto la distanza eh profonda che attanagliava eh la Germania orientale rispetto agli standard occidentali. Gli obiettivi evidentemente non sono stati raggiunti infatti negli ultimi anni da questa convergenza addirittura rallentata e emblematica di questa distanza è il caso di del circondario di post da Mittelmark vicino a Berlino che è circondario che conta all'incirca se non mi sbaglio duecentomila persone su sedici milioni eh circa di abitanti nella Germania orientale appunto post da Mittelmark è l'unico circondario della Germania orientale ad avere un reddito medio superiore alla media nazionale per tutti gli altri circondari il reddito medio è inferiore e e questo appunto è un dato che mette in mostra questa distanza strutturale. E abbiamo visto appunto il il grafico e quindi nonostante insomma l'enorme quantità di denaro di investimenti fatti dalla Germania ovest verso l'est che fanno impallidire anche no quello che è stato fatto in Italia per il mezzogiorno per esempio ciò nonostante insomma rimangono quindi queste differenze economiche e poi anche demografiche perché appunto come hai come hai spiegato bene tu ovviamente questa differenza d'ecomia ha fatto sì che i giovani no si spostassero verso ovest per motivi di lavoro sostanzialmente e allora quindi allora facciamo intanto una piccolissima premessa storica e cioè ricordiamo noi siamo abituati a pensare la DDR come Germania dell'est invece sostanzialmente storicamente la Germania centrale quindi questo per dire che ci sono insomma le differenze attuali tra l'est e l'ovest non dipendono solo dalla seconda guerra mondiale qui vediamo per esempio una carta dell'impero tedesco del 1871 1918 no come era distribuito quindi c'è tutta la parte orientale sostanzialmente la Prussia che un pezzo poi nella prima guerra mondiale ma confermati soprattutto con la seconda guerra mondiale abbiamo appunto ricordiamo lo spostamento di territori per cui quella che era la Germania orientale è diventata Polonia quella che era la Polonia orientale è diventata appunto Bielorussia comunque insomma entrata nell'ex Unione Sovietica quindi di fatto quello che vedete invece qui c'è appunto la spartizione della Germania eh dopo la seconda guerra mondiale qui vedete la parte appunto la zona di Kaliningrad lì in alto a destra che è diventata appunto l'esclave ora russa eh in un mare in un lago baltico della Nato e qui vi ricordo l'approfondimento che ha fatto Lucio Caracciolo proprio su questo e che trovate sul canale e poi le regioni che sono diventate Polonia e quindi quella che era la Germania eh centrale è diventata una la Germania dell'est e appunto quella dell'Ovest appunto la Repubblica Federale ehm e ricordiamo anche qui che storicamente ci sono state sempre eh differenze fortissime eh all'interno della Germania stessa tra le varie regioni perché come anche l'Italia la Germania no si è creata ehm recentemente come stato unitario ha una grandissima storia di principati regni insomma di divisioni interne che permangono ancora oggi quindi questo per dire come non è solo la divisione tra est e ovest eh provocata dalla guerra fredda dalla seconda guerra mondiale che comunque ha inciso perché ovviamente ehm qualcosa di settanta anni fa e più e che ci porta a queste differenze che dicevi tu no? Assolutamente e in effetti già a partire dalla guerra fredda dopo che sono state amputate oltre appunto a Königsberg Slesia e Pomerania dalla Prussia anche quel che rimaneva della Prussia che sarebbe poi diventata Dedeale cominciò a coltivare a partire proprio da quel senso di identità da quel rimando storico un'identità specifica questa identità ehm è rimasta mh anche a seguito della della riunificazione e anzi sotto certi punti di vista si è anche esacerbata si è anche esacerbata perché dal punto di vista di quelli che noi oggi chiamiamo tedeschi orientali la riunificazione a cui loro tra l'altro hanno contribuito non poco eh si è realizzata in fin dei conti come un'imposizione da parte dell'Occidente dei tedeschi occidentali dell'Ovest nei loro confronti quindi per tornare appunto a quelle distinzioni etniche che tu Alfonso citavi eh che hai citato adesso ehm i tedeschi appunto quel che restava dei tedeschi brussiani hanno percepito come se il canone ehm il ceppo renano-anseatico appunto dominante occidente si imponesse completamente sopra sopra di loro e qua non vorrei essere eccessivamente didascalico però per rendere l'idea agli occhi tedeschi orientali è venuto così sono arrivati i tedeschi occidentali e hanno detto perfetto avete la scusante di essere stati satelliti di un'altra potenza eppure dovete rendervi conto e noi siamo qui per insegnarvi che tutto ciò che vi hanno insegnato ciò che avete imparato ciò che vi avete creduto per quarant'anni è falso e noi quindi nostro compito ora è insegnarvi a stare al mondo e questo ha condizionato fortemente eh il punto di vista di questi tedeschi orientali appunto che hanno visto come un'imposizione esterno l'imposizione appunto eh la l'espansione insieme a quei finanziamenti ingenti che abbiamo citato prima del tentativo di esportare anche nella nell'ex Germania dell'est un canone che è universalista post nazionale eh occidentale e che loro pensano non appartenere e per questo oggi per tornare a citare dei dati concreti oggi tre ossis quindi tedeschi orientali su quattro ritengono di avere un'identità percepiscono se stessi come orientali come tedeschi orientali non come tedeschi e cosa ancora più interessante che questa cifra raggiunge l'ottantaquattro per cento quando si prende in considerazione soltanto la generazione nata dopo il crollo del muro di Berlino quindi persone che quella Germania di non hanno neanche mai vissuta ottantaquattro allora abbiamo qualche problemino da odio io intanto allora vi ricordo eh faccio perché eh ho dimmiato prima di insomma di specificare di come il perché parliamo in questo momento della Germania perché ovviamente con la guerra in Ucraina e con il eh riarmo tedesco no? Questi cento miliardi che ha messo sul piatto il cancelliere tedesco eh parliamo quindi di una Germania che probabilmente tornerà a svolgere un ruolo geopolitico importante una Germania che durante tutta la guerra fredda è rimasta ovviamente considerata un gigante economico perfetto adesso si sente Giacomo allora stavo dicendo appunto che durante la guerra fredda un gigante economico ma un nano politico no? Satellite eh dei Stati Uniti d'America ora questa guerra d'Ucraina cambia cambia il mondo no? L'abbiamo detto c'è anche il titolo di volume precedente di Limes e quindi se la diventa importante questa divisione interna alla Germania se la Germania tornerà a essere un soggetto non solo economico ma anche geopolitico a tutto a tutto tondo e in Europa quindi ecco a te Giacomo riprendi le ultime cose non si sono sentite perché abbiamo avuto questo problema perfetto allora eh stavo dicendo non so dove mi sono fermato e chiedo scusa ehm stavo citando dei dei sondaggi eh per cui tre ossis quindi tedeschi orientali su quattro percepiscono se stessi come come specificamente tedeschi orientali e non tedeschi in generale e questa cifra raggiunge l'ottantaquattro per cento quindi si alza in maniera significativa per i giovani nati dopo il crollo del muro di Berlino quindi persone che quella Germania lì non l'hanno neanche mai vissuta appunto che l'hanno ricevuta tramite appunto come eredità culturale più che come fatto concreto e a questo si unisce un altro dato e poi per metterli insieme e cercare di trarne qualcosa di geopolitico un altro dato che è quello eh riguardante alla percezione della del diciamo del del delle istituzioni eh all'interno della Germania orientale il quarantacinque per cento quindi in fondo un tedesco orientale su due eh considera di vivere in una democrazia fasulla che è un dato appunto estremamente rilevante che se unito a quello precedente ci dà un segnale chiarissimo ossia il fatto che questi tedeschi eh orientali mh percepiscano se stessi come subalterni rispetto agli occidentali percepiscano quindi di non essere rappresentati a livello federale quanto meriterebbero di essere e che a questa appunto in posizione dall'esterno rispondono chiudendosi che rispondono reagendo con un'azione di rifiuto una un'indisposizione totale ad adeguarsi ai canoni esterni. Eh io ricordo solo a titolo d'esempio forse perché la cosa è più nota al grande pubblico e cioè no pensiamo solo alla Baviera no? Che anche come partito cattolico cristiano ehm si è sempre differenziata anche partecipando sempre alle stesse maggioranze cioè la la grande sensibilità la grande forza che ha avuto la Baviera nel differenziarsi dal resto della Germania ma lo vediamo adesso appunto anche in queste regioni però un tema specifico. Infatti è per questo scusa che noi parliamo di due Germani ma in realtà dovrebbe esserci tra parentesi un almeno cioè sono almeno due allora è una differenziazione importante e proprio in campo del petrolio del gas io appunto in questo volume di Limes cioè questa carta disegnata da Laura Canali sulla Germania petrolifera che qui vediamo a colori e e beh raccontaci perché praticamente anche appunto nel campo infrastrutturale sono rimaste queste differenze tra est e ovest. Assolutamente assolutamente partiamo dal dal dato che la Germania è un paese estremamente dipendente da i combustibili russi dall'importazione di incombustibili russi. Tuttavia questo detto in maniera così generale non tiene conto del fatto che vi è una Germania quella orientale che è estremamente più dipendente dal petrolio e dal gas russo rispetto a quella occidentale. C'era infatti un grafico che ti avevo portato in cui si dimostra la le varie differenze nella nella dipendenza e comunque io intanto vado avanti. Questo del gas? Esattamente in cui si mostra come la dipendenza da idrocarburi, quindi da gas e petrolio dalla Russia raggiunga tranne il caso della Turingia superi sempre il 90% del proprio fabbisogno nei render orientali e questo è significativo perché quando il 30 maggio viene deciso dall'Unione Europea una messa al bando parziale in realtà perché coinvolgerebbe semplicemente il trasporto via mare quindi petroliere ma a ciò se a Varsavia e Berlino aggiungono anche il ramo settentrionale del dell'oleodotto Druzba che dalla Russia trasportava il petrolio alla Germania orientale che era la principale fonte di approvvigionamento petrolifero della di quella Germania orientale infatti come faccio faccio vedere anche il dettaglio qui si vede meglio. Druzba esatto lì sotto Polonia e il dato importante che appunto se la Germania orientale si riforniva quasi esclusivamente da Druzba la Germania occidentale invece aveva altre fonti approvvigionamento Trieste stessa Marsiglia e Rotterdam tra le altre perché è importante e perché in questa carta la Germania petrolifera parliamo di ex DDR non integrata nel sistema di oleodotti della Germania occidentale perché una volta che il petrolio il greggio entra in Germania occidentale non esistono dentro la Germania le infrastrutture per trasportarlo da una parte all'altra come si vede la carta è proprio esplicito si vede come tutta la Germania occidentale sia collegata come la Germania orientale abbia dei collegamenti interni ma come non siano comunicanti e quindi da questo in questo appunto a seguito della messa al bando del petrolio russo si trova la Germania orientale di fronte a un vero e proprio isolamento petrolifero e in questo un dato a mio parere molto interessante è quello polacco. Cosa fa la Polonia di fronte a questo isolamento coglie capisce l'opportunità strategica infatti al tubo druzba è collegato anche la raffineria di danzica e sappiamo che per diciamo postura spontanea la Polonia percepisce anzi prova a sfruttare qualsiasi occasione si presenti per separare per impedire un'intesa tra i loro due tra i suoi due scomodi vicini cioè Germania e Russia e questa questione si era verificata specialmente nei confronti del gas e dell'energia in generale diciamo nel diciamo negli ultimi anni l'ex ministro degli esteri polacco Radek Sikorsky aveva chiamato il appunto aveva parlato dell'accordo su Nord Stream 2 come di un nuovo patto Molotov-Ribbentrop e aspetta che allora mostriamo subito la carta anche dei nostri uno e due ricordiamo questo è l'oliodotto eh che di fatto consentiva alla Russia di saltare a pie pari i baltici la Polonia e quella fascia di paesi che sostanzialmente erano un ostacolo per la Russia per esportazioni di petrolio e gas verso l'Europa occidentale perché li ripassano e appunto i gasdotti e gli oliodotti storici è stato creata la prima parte Nord Stream 1 che è entrata in funzione Nord Stream 2 è stata costruita ma non è entrata mai in funzione dove entrare anzi poco tempo prima della guerra dell'Ucraina ma poi per insomma anche con cavilli vari è sempre stato bloccata bloccata la partenza e ora se non se non sbaglio già come è stato anche ridotto la portata dei del Nord Stream 1. Assolutamente sì allora come dicevi giustamente tu Nord Stream è stato Nord Stream 2 è stato ritardato fino al 22 febbraio quando il cancelliere Tedesco Rolf Scholz ha annunciato la sua sospensione tuttavia è continuato a fluire il gas nel gasdotto numero uno Nord Stream fino a pochi giorni fa quando il colosso energetico rusto Gazprom ha annunciato un taglio del 40 per cento sulle forniture alla Germania in risposta Berlino ha annunciato l'entrata nella fase 2 del proprio programma per l'emergenza nei confronti dei rifornimenti di gas. Cosa significa la fase 2? È una fase innanzitutto 2 di 3. La fase 1 che è una fase di preallarme annunciata mi pare il 30 marzo. Ora siamo entrati in una fase di allarme a cui potrebbe seguire in caso si aggravasse ancora di più la situazione di approvvigionamenti in una fase di piena emergenza in cui a Berlino aspetterebbe in sintesi di razionare all'interno del proprio territorio gli approvvigionamenti gasieri penalizzando specificamente l'industria. Potremmo addirittura si ipotizza arrivare a dicembre o comunque all'inverno con una situazione veramente difficile per la Germania in quanto di fronte a una vera emergenza alla Germania toccherebbe scegliere se approvvigionare far arrivare i approvvigionamenti ai propri paesi vicini che passano attraverso la Germania oppure sacrificando la propria industria oppure tenerseli. Sarà un problema non solo della Germania ma di tutto l'Europa occidentale discussione ovviamente della Francia che ha le centrali. E nel caso sudeste ci direbbe molto di dello dello stato del della della percezione di sé in senso geopolitico della Germania a quel punto ma è in tutte ipotesi naturalmente. Questa ovviamente però è la chiave appunto la Germania cosa farà in questa situazione d'emergenza e ricordo ovviamente Nord Stream aveva l'opposizione non solo di Polonia e Baltici ma soprattutto degli Stati Uniti che ricordiamo hanno fatto di tutto appunto per frenare e impedire la messa in funzione di Nord Stream 2 perché avrebbe legato ovviamente non solo la Germania ma l'intera Europa occidentale ancora di più sarebbe stata dipendente dagli idrocarburi russi cosa che a cui gli Stati Uniti si sono posti appunto negli anni e come stiamo vedendo adesso una dipendenza che era già molto alta appunto nei confronti della Russia. Allora entriamo nella conclusione di questa trasmissione no? E colleghiamo un po' questa spaccatura tra est e ovest della Germania e non solo eh appunto lo sottolineiamo sempre non parliamo di due Germani ma ce n'è anche qualcuno in più nella guerra d'Ucraina e cioè anche qui no? Già come emerso e questo è stato interessante eh come all'interno della Germania permangano però come 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 considerare un filone un filone anche di pensiero ma anche posturale vicino alla Russia lo si è visto in campo economico con la dipendenza degli idrocarburi ricordo solo non so pensiamo solo alla figura di Schroeder cioè il cancelliere no? Della SPD che è andato poi finito il suo incarico è andato a lavorare per i russi sostanzialmente per Gazprom e solo adesso con la guerra d'Ucraina insomma ha interrotto i propri rapporti no? Questo passaggio che c'è anche un po' scandalo ma anche semplicemente l'ammiraglio che prima della guerra ha avuto delle parole diciamo a favore della Russia e che mi ha causato le dimissioni quindi la Germania nonostante eh l'appartenenza alla Nato poi ricordiamo no? Il motto un po' la frase famosa della Nato che serviva a tenere gli americani dentro i russi fuori e la Germania sotto no? Quindi il ruolo della Germania nella Nato è sempre stata quella di essere insomma sottoposta a controllo degli alleati occidentali ecco allora adesso con la guerra d'Ucraina la Germania ha la possibilità di emanciparsi da questa diciamo situazione no? Di subordine in un certo qual modo ma soprattutto riemerge a sorpresa nonostante tutto il periodo della guerra fredda i settanta ottant'anni della Nato e quindi anche dell'influenza occidentale americana sulla Germania persiste all'interno della Germania un filone filo russo che ha un collegamento anche con questa divisione della Germania no? Assolutamente sì. Predire se la Germania riuscirà ad affrancarsi a mio parere è prematuro. Tuttavia si può ragionare su quello che sta succedendo finora. Anzitutto partirei dalla premessa che la guerra in la guerra in Ucraina impone una profonda ridefinizione degli equilibri che non riguarda semplicemente una possibile ridimensionamento russo, una sconfitta strategica russa o la possibilità che l'Ucraina scompaglia dalle carte geografiche ma coinvolge a riflessi in tutto il mondo e coinvolge in special modo il nostro continente. In un ancora imprevedibile dopoguerra le gerarchie europee ne usciranno inevitabilmente modificate. Basti pensare allo slancio polacco oppure all'assertività britannica. E in tutto questo la Germania si annuncia un imponente riarmo ma da dimostrazione di una problematica per i tedeschi in mobilità. Di un'incapacità di mettere sul tavolo tutto il proprio peso ed è un peso massimo quello della Germania per fare assumere alla crisi una direzione che sia coerente con i propri interessi. E questo sicuramente è dovuto alla mancanza di abitudine della Germania, dei tedeschi a pensare i propri interessi in termini strategici quindi andare oltre alla sola diciamo valutazione del conveniente in termini economici ma si aggiunge anche la questione della linea di faglia tra est e ovest. Infatti a mio parere ciò è un motivo centrale nella cautela che ha il cancelliere Olaf Scholz che è un criticata da tantissimi sia dentro che fuori la Germania. Infatti la Germania si trova spaccata a metà nella percezione della Russia ad esempio. Infatti abbiamo una Germania occidentale che è per via del suo benessere economico, per via della sua storia diversa, per via della stessa distanza geografica, che è disposta a sacrificare alcuni aspetti per chiudere per sempre con la Russia, per chiudere una volta per tutte con la questione della Russia. Cosa che non è assolutamente corrisposta in Germania orientale, che sempre per motivi storici, per motivi delle dipendenze energetiche che sono vitali, che abbiamo citato prima, tende a pensare alla Russia più come un dato di fatto. C'è qualcosa che inevitabilmente sarà sempre lì e con cui quindi bisognerà trovare prima o poi un modus vivendi. Bisognerà riuscire a dialogarci. E questo è, appunto, per citare un altro sondaggio che, nel senso, rendono conto un po' dello stato di cose. Il 22 febbraio, subito prima, due giorni prima dell'invasione, l'emittente tedesco orientale MDR ha pubblicato un sondaggio appunto che concerneva tutta la crisi in corso. Alla domanda qual è la più grande minaccia per la pace internazionale, il sondaggio ha stato condotto in Sassonia, Sassonia Annalte e Turinja, per essere proprio specifici, questi cittadini rispondevano che la più grande minaccia alla pace internazionale era gli Stati Uniti e non la Russia. In più, alla domanda, ma sì, però, qual è il colpevole vero della crisi? Stati Uniti prima, Russia seconda. E questo rende conto del fatto che, di una percezione, che a occidente, dai tedeschi occidentali, viene percepita al meglio come un delirio incomprensibile. Anzi, cioè, non esageriamo se parliamo di quasi di sindrome di Stoccolma, ma al punto, su un punto di vista strategico, più che di rimere questa, appunto, inconciliabile differenza, dal punto di vista strategico interessante è proprio questo. Nel momento stesso in cui non ci si riesce a comprendere da una parte, dall'altra, nel momento stesso in cui viene meno un collante, una base fondamentale, viene anche meno la possibilità di assumere un punto di vista univoco nei confronti di ciò che accade nel mondo. E quindi la possibilità di definire in maniera unica, di definire un'unica direzione del proprio interesse. E questo incide, no, in maniera netta sulla possibilità della Germania di tornare a essere una grande potenza a tutto tutto. Perché la Germania, infatti, in questo, e poi, e qui chiudo, in questa, appunto, in questa crisi, poi guerra, in Ucraina, ha dato dimostrazione di un profondissimo deficit di soggettività. Vedremo, vedremo, perché, insomma, eh, non so, il fatto che ad esempio, eh, il riarmo fosse così già puntuale, previsto, no, con tutta la lista anche degli armamenti da acquistare, fa anche pensare che in realtà forse all'interno della Germania, no, permanga invece un nucleo culturale che pensi alla Germania come futura potenza. Però, appunto, come abbiamo visto, ci sono queste differenze interne che sono un ostacolo. Insomma, vedremo, vedremo come andrà a finire. Ovviamente parliamo anche di fenomeni legati adesso come si svilupperà la guerra d'Ucraina, ma anche i fenomeni di lungo periodo. Giacomo, io ti ringrazio tantissimo e ti do appuntamento, ti do appuntamento a le prossime trasmissioni sul canale. Grazie mille, a presto e un saluto a tutti. Alla prossima. Grazie mille. Grazie a tutti.